benvenuti a nome di WeBank io sono Alan Vincenzo Gendusa e vi presento questo webinar che è un must apertura dei mercati americani che facciamo con Gianvito D'Angelo e Massimo Vita eccoli qua ciao ciao Alan ciao a tutti faremo appunto questo collegamento in diretta il momento più eclatante più bello della giornata proprio l'apertura dei mercati americani Massimo perché ci devono vedere daremo anche continuità a quello che Gianvito ci ha proposto anche il 19 novembre i mercati che stanno salendo mercati fortissimi eccetera e vedere un po' come sarà la prosecuzione in quest'ultimo mese dell'anno molto delicato e molto interessante quindi l'apertura dei mercati americani sicuramente darà un là a quello che sarà anche tutti i mercati europei nel pomeriggio perfetto tra l'altro mercati sui massimi quindi webinar interessantissimo vi faccio vedere i miei recapiti se volete diventare clienti WeBank del gruppo Banco BPM contattatemi al 347 28 03 056 oppure alanvincenzo.gendusa chiocciolapromotori.bancobpm.it dicendomi che avete visto questo webinar avrete delle condizioni condizioni speciali inserendo questo codice promotore pf 52 118 nell'adesione online avrete 100 euro di commissioni gratuite e la mia assistenza diretta nel trading team WeBank potete prendere visione di questo webinar cliccando nel link che trovate in descrizione e come sempre vi ricordo di andare sul sito WeBank.it nella sezione eventi e corsi e registrare i nostri numerosi webinar di formazione gratuiti buona visione con Gianvito D'Angelo Massimo Vita in apertura dei mercati americani